Ciao Roberto, giusto che non sappiamo che lo dobbiamo fare nelle prossime tre ore come due pazzi siamo saliti sulla torre di Castelli Sangro con i borsoni, come potete notare i nostri borsoni Roberto si è ucciso col monospalla e io lo stesso, non è che cambi molto possiamo notare questa costruzione antica risalente al 1000... ...dopo cristo e chi ci sarà scaminata anche, siamo saliti e come possiamo notare qui abbiamo le costruzioni obbrobbiose di Castelli Sangro e Castelli Sangro dopo questa casa infatti non si vede un cazzo infatti che ci tiene in piedi se no già saremo morti e come possiamo notare qui sono i monti innevati sta diciamo nevicando molto lentamente, molto piccola nevica ma... non si può non si può, non si può perché come possiamo notare le dimensioni, i fiocchi che si posano al suolo sono talmente infime da non permettere accumulare... ok e dopo praticamente il meteo di oggi possiamo notare che praticamente le montagne verso la Razzicca, la Remogna fino ai 2200 metri sono completamente innevate, ciò sciatori che vedete questo filmato... ...accorrete a sciare, d'accordo? buona giornata, salve cari un saluto da National Durazzanic grande centro di rivoluzione buona giornata